Il linguaggio è una funzione complessa che nei destrimani, cioè nei soggetti che hanno come dominante l'emisfero di sinistra, sta e è collocato funzionalmente nella corteccia cerebrale di sinistra. Schematizzo molto, semplifico anche con concetti vecchi che però servono di più a rendere grossolanamente l'idea. Il linguaggio, dal punto di vista anche funzionale, quindi per come è organizzato nel sistema nervoso, sono organizzate le aree dell'accortezza deputate al linguaggio. Per spiegarmi quelle aree che se vengono lese in qualche modo provocano come sintomo un disturbo del linguaggio, un'alterazione del linguaggio. E' diviso in alcune componenti. Quando si studiano le afasie, disturbi del linguaggio dovuti a delle lesioni, delle aree corticali, le afasie si dividono grossolanamente in tre parti. E sono le afasie motorie, vecchi termini, adesso magari superati, ma insomma servono per rendere l'idea. Le afasie motorie sono quelle in cui il soggetto che è affetto ad afasia motoria non riesce più a trovare le parole per esprimersi. E' come se avesse perso il suo vocabolario. Capisce, capisce tutto quello che gli viene detto, ma quando vuole parlare diventa come un bambino che non ha più i termini, non trova più le parole. E si arrabbia perché sa quello che vorrebbe dire, ma non trova più il termine per dirlo. E quando prova dei termini, prova dei termini che risultano quasi ridicoli perché sono così alterati, insomma dice una parola per un'altra, parole monosillabi che mette lì, insomma, no. E quindi perde la funzione di tradurre i concetti in parole, in espressioni. Si blocca, quasi balbetta su questa parola sbagliando le singole sillabe. Poi ci sono le afasie sensitive. Queste afasie sensitive sono causate da una lesione di un'altra area che sta al di dietro della scissura di Rolando, un'area, diciamo, sensitiva per quello che riguarda il linguaggio. E cosa vuol dire? Vuol dire che il soggetto non è più in grado di comprendere il significato di quello che sente. Sente le parole. Quando qualcuno gli parla, lui le parole le sente, non è sordo. Ma le parole che arrivano, che arrivano tradotte in segnali alla sua cortezza sensitiva, a questo punto non hanno più significato. È come se sentisse parlare un'altra lingua, sentisse delle parole che lui non sa più riconoscere. e quindi non capisce più. È escluso dal mondo, non tanto dei suoni, perché quelli li sente, ma del significato di questi suoni. E quindi in qualche modo è escluso dal mondo della collettività, che si esprime attraverso le parole, quindi i concetti. È escluso dai concetti. Poi c'è un'altra fasia che avviene quando è interessato quel fascio di fibre nervose che unisce, che collega questi due centri, quello sensitivo e quello motorio del linguaggio. Quello che raccoglie le parole e da loro senso, significato, è quello che invece raccoglie i concetti per poi tradurli a sua volta in parola. E questo fascio che collega questi due a volte viene danneggiato da delle lesioni. E allora ci sono queste fasia di conduzione, nel senso che quando il soggetto parla, e parla in maniera a questo punto fluente, dice tante parole, ma non le controlla più attraverso la sua mente, diciamo così, quella parte del cervello deputata appunto a riconoscere le parole del linguaggio e quindi a controllare quello che poi viene a sua volta prodotto. E quindi parla un linguaggio inventato. Insomma, parla molto, ma le parole che dice non sono più controllate. Inventa. Inventa un linguaggio nuovo, incomprensibile, perché non è più controllato. No, viene fuori quello che viene fuori. Quindi è un'efasia che a questo punto è fluente, ma è insignificante, che non è più significante, cioè che non è più espressione dei concetti che quella persona vuole esprimere, di quello che vuole dire. Inventa, dice qualcosa che non sa di dire. Quindi tre, no. Per capire che il nostro linguaggio non è fatto soltanto di espressione, ma è fatto anche di comprensione del linguaggio altrui. Questa introduzione lunga, diciamo tra virgolette a carattere neuropsicologico, mi serviva per dire qualcosa sul fatto che, di cui sentivo anche un po' parlare, al giorno d'oggi, con la tecnologia che tutto sommato assume su di sé certe funzioni che prima faceva il cervello. Prendiamo la cosa più semplice, il calcolo, insomma. Visto che i calcoli ormai ce li fanno i computer, non sappiamo più fare le tabelline, estrarre una radice quadrata, queste cose qua. Poi alla volta le perdiamo. Chi nasce col computer e si trova fatte determinate operazioni che prima richiedevano un'elaborazione mentale, ormai le perde. E così tante altre funzioni che riguardano soprattutto la comprensione. Pensiamo al motore, no? Una volta, quando si andava in automobile, si studiava il motore e si sapeva quello che conteneva questa automobile, come il motore funzionava per mandare avanti le ruote per far correre l'automobile. Adesso è molto più difficile saperlo e se poi andiamo a tutto l'apparato elettronico che governa la macchina, magari ci sono persone che sono molto in grado di farlo funzionare, ma non sanno come funziona, cioè non sanno i meccanismi intimi che regolano il funzionamento. Quindi la nostra capacità di comprensione un po' alla volta diminuisce. Impariamo dei gesti meccanici, pensiamo anche a tutto il sistema, anche intuitivo, che guida certi sistemi operativi, per esempio Android, dove si impara un po' per tentativi ed errori così, ma non sappiamo più, soprattutto ai bambini, che imparano subito a usare queste cose qua. E quindi poi viene meno anche la tensione per cercare di capire cosa c'è sotto i meccanismi, cioè come funzionano, cosa c'è dietro quel gesto che loro fanno e che ottiene quel determinato risultato. Quindi un po' alla volta si va a un depauperamento della capacità di comprensione. Quindi parliamo dei linguaggi che sono un po' astratti dalla comprensione dei concetti che ci stanno sotto. quelli li deleghiamo a certi specialisti che lavorano magari solo su quello, ma noi ci accontentiamo di imparare a far funzionare una cosa senza più sapere come cosa ci sta dietro a quella cosa che impariamo a far funzionare, come funziona. E questo andando avanti, insomma, cambia il nostro modo di far funzionare il nostro cervello, cambia i paradigmi secondo cui ragioniamo e secondo cui ci muoviamo. Allora, più che la comprensione, diventa importante la consuetudine, cioè noi sentiamo certe cose e si adattiamo a quelle cose, impariamo a quelle cose che sentiamo e non le approfondiamo più, non siamo più capaci di leggere discorsi che siano un po' più complessi rispetto a quelli che sentiamo e che rientrano nella nostra sfera soltanto perché li sentiamo continuamente, quindi veniamo bombardati da essi, no? E quindi continuamente siamo bombardati da messaggi e questi messaggi diventano un po' la nostra realtà. Sempre più a fatica riusciamo ad andare oltre questi messaggi, cioè a capire tutto quello che ci sta dietro. E allora sembra che il linguaggio man mano che andiamo avanti col tempo in qualche modo si si depauperi della comprensione del significato. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando usiamo le parole queste parole spesso quando vengono usate adesso da chi è giovane insomma da chi le adopera non hanno più il senso che avevano da chi le aveva usate e introdotte in passato. Cioè vengono raccolte soltanto per un minimo del loro significato ma si perde tutta la complessità di quel linguaggio, tutta quella complessità che sta dietro magari ad ogni singola parola. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ci si comprende più, si fa fatica a comprendersi è come se magari il ragazzo di adesso quando sente parlare un vecchio magari un anziano sentisse usare le parole come se fossero dette in una lingua diversa sentisse parlare una lingua che non è più la sua. Tutto questo per dire che per tradurlo poi è una cosa molto più banale ascoltavo suonare Sokolov che per fortuna la tecnologia ci dà adesso la possibilità di ascoltare dei concerti dei concerti registrati insomma quindi su YouTube di tanti pianisti insomma dico pianisti perché a me interessa il pianoforte insomma ma tanti musicisti di tanta la possibilità di sentire tanta musica in tante interpretazioni diverse ma guardavo Sokolov perché secondo me forse tra i viventi è il più grande pianista insomma è il più grande personaggio è un personaggio molto particolare insomma che ha un'arte pianistica che è riconoscibile insomma ha le sue caratteristiche insomma grandissimo interprete grandissimo interprete e appunto forse è considerato il più grande pianista vivente allora guardando i suoi concerti poi ti trovi insieme a tanti mi piace ovviamente ma ti trovi anche non mi piace no? e allora uno rimane perplesso perché di fronte a un pianista come Sokolov cosa si può aspettarsi di meglio o di più no? allora se non ti piace quello la logica ti dice ma cos'altro ti puoi aspettare dalla vita rispetto insomma intesa come musica insomma cos'altro ti può dare di più un pianista rispetto a quello che ti può dare Sokolov potrà non essere come dire non corrispondere al tuo gusto personale perché magari così ma come fai a dire che non mi piace quando dice non mi piace vuol dire che non è bello non fa abbastanza e come fai a dirlo rispetto a un'interpretazione di Sokolov che è una cosa immensa insomma per chi ama la musica insomma no? è un'emozione continua la scoperta di atmosfere di cose insomma che ti dà questo pianista al massimo astieniti no? lascia perdere e invece no uno scrive non mi piace e così anche per rispetto a tante altre cose insomma no? e allora viene da capire viene da pensare che che questo non mi piace si è legato al fatto che che manca la capacità di comprensione no? che si è creata un una frattura tra tra linguaggi diversi e che quindi queste persone che scrivono non mi piace rispetto a un'interpretazione di Sokolov non hanno più gli strumenti poveri loro ma insomma per per capire sono diventati affasici sentono ma non comprendono quello che sentono e e quindi loro mi piace è come un ammettere una loro afasia una loro incapacità di di comprensione purtroppo perché vuol dire ammettere il fatto che si perdono una delle cose che può dare piacere e senso alla vita no? e così è anche per l'arte evidentemente no? così per molte cose quindi cerchiamo di guardare anche questo no? che spesso quando i giovani di adesso scrivono non mi piace e lo scrivono perché sono abituati a godere soltanto dei messaggi semplici dei messaggi che arrivano loro così direttamente che hanno sentito nell'aria insomma no? e che e che a furia di sentirli sono entrati nella loro sensibilità indipendentemente dal loro valore perché purtroppo poi i messaggi che passano molto spesso insomma quelli semplici che vengono raccolti sono i più banali sono i più immediati è necessario che quando i messaggi poi accompagnano soprattutto la pubblicità la necessità di vendere bisogna vendere con delle cose accessibili semplici facili insomma delle musiche che siano immediatamente percepite e quindi l'incapacità di di comprendere quindi di gustare quelle cose che hanno un valore assoluto insomma non c'è di meglio sia legata proprio a una a una afasia insomma no? a un a un deficit del del sistema nervoso di poter comprendere il senso il significato della parola o o della musica e quindi e che questo deficit non sia tanto il frutto di una lesione ovviamente no? non sono afasici nel senso organico lesionale della parola ma sono diventati afasici perché perché il cervello non si è più adattato non è più stato stimolato ha trovato delle vie più semplici e ha perso quella abilità che invece era il frutto di un esercizio di un lavoro di uno studio no? non essendoci più dietro quello un po' alla volta anche la funzione si perde e su quello che sostituirà questa funzione sul suo valore se sia meglio o peggio quello che si acquisirà quindi la nuova dotazione di cui saranno forniti i nuovi cervelli sarà migliore o peggiore di quella che di quella che si va perdendo questo sarà un giudizio che bisognerà lasciare a chi verrà dopo di noi un saluto